Spacciatori albanesi, operazione dei carabinieri rossa hanno smantellato una rete che operava in prevalenza sulla costa, sei persone arrestate tra loro, una termolese, a Campomarino due rapinatori, bicchiano e derubano madre e figlio di Sabile. Feste a mare per tanti lavoratori, quelli della Gamson senza lavoro e con la prospettiva della Cassa Integrazione che non ha copertura finanziaria protesta, la ditta che pulisce gli uffici della regione da 18 mesi non viene pagata. Nuovi parcheggi inaugurati a Isernia, oggi il taglio del nastro nella zona nord tra la questura e il centro commerciale, un'opera costata 400 mila euro che migliora l'accesso alla città. I vigili del fuoco festeggiano la patrona, oggi la ricorrenza di Santa Barbara, celebrata a Campobasso e Isernia, le parole del Presidente della Repubblica, insostituibili nelle emergenze e nel soccorso ai cittadini. La molisana basket ospita il Cagliari, si gioca domenica alle 15.30 al Palavazzieri, fissata la data del recupero della trasferta di Civitanova Marche per mercoledì 19, calcio molisane sul mercato. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca e con un'operazione, ancora un'operazione antidroga dei carabinieri coordinati dalla Procura Distrettuale Antimafia di Campobasso. Sei persone arrestate, due divieti di dimora, sgominato un'organizzazione di albanesi in prevalenza in rumeni che spacciava soprattutto cocaina tra Porto Cannone, Termoli, Campomarino e San Martino in Pensilis, la base operativa Porto Cannone, tra gli arrestati anche una Termolese. Sentiamo i dettagli. Smantellato un'organizzazione criminale di medio livello dedita allo spaccio di droga soprattutto cocaina ma anche roina e hashish in basso Molise. In prevalenza albanesi e rumeni e una molisana. Sei arresti in carcere, due divieti di dimora in Molise, Abruzzo e Puglia. I carabinieri del Rosso hanno agito all'alba insieme ai militari dei comandi provinciali di Campobasso, Chieti, Zerni e Foggia con il nucleo cinofili di Chieti. 26 le perquisizioni, le ordinanze emesse dal GIP di Campobasso su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. L'organizzazione aveva base a Porto Cannone e da lì vendeva droga. A Campomarino, Termoli e San Martino in Pensilis, i due cugini albanesi al vertice pregiudicati che stavano scontando pene in sistema alternativo, acquistavano lo stupefacente proveniente dall'Albania in Molise. Veniva acquistato appunto sempre da un loro connazionale, anche egli è stato colpito da misura personale di custodia cautelare in carcere. La droga veniva acquistata sempre qui in Molise. In realtà sì, il canale di approvvigionamento è albanese, però l'acquisto veniva fatto sempre qui all'interno della regione Molise. Quindi la droga venduta ad altri due personaggi, anche loro arrestati, che a loro volta la usavano o vendevano sul mercato del Basso Molise attraverso altri canali. Erano persone che comunque vivevano qui da diversi anni. Fondamentale anche l'apporto delle donne in questa rete. Con diversi ruoli e funzioni, ovvero occultamento, trasporto dello stesso stupefacente, nonché anche recupero crediti. Una di loro finita in carcere, Termolese. La moglie di uno dei due cugini vertici dell'organizzazione. La droga occultata in scatole, barattoli e sotto le pietre. La droga veniva acquistata e poi nascosta, principalmente in edifici disabitati, piuttosto che in zone di campagna. Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. L'accusa ha sequestrata anche una macchina. Importanti le testimonianze raccolte. Gli arrestati sono nei penitenziari di Vasto, Larino e Chieti. I dettagli dell'operazione denominata al FEUS 1 dal nome scientifico di un gambero, spiegati dal procuratore capo di Campobasso Nicola D'Angelo e dal sostituto Vittorio Gallucci, dal comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso Emanuele Gaeta e dal capitano Gaetano Mitola. Da settembre alla guida del ROS, un'organizzazione con metodi anche duri, è stato spiegato che acquistava mezzo chilo, un chilo di droga al mese, droga strumento per introdurre la criminalità organizzata in Molise. È evidente che se la droga di cui stiamo parlando viene direttamente o indirettamente dall'Albania, è evidente che si cerca di permeare tutta la costa adriatica. Il Molise non è diverso dalle altre terre quando si ha a che fare con reati di spaccio di droga. Quello della droga è un mercato e come qualsiasi altro mercato viene permeato da chi è più forte. Un'operazione questa che segue altre due in basso Molise, è evidenziata l'importanza della rete creata per il contrasto alla droga da magistratura, forze dell'ordine, avvocati, società, civile, stampa. A Campobasso intanto campeggiano dei cartelloni creati da Confcommercio e Confesercenti. Nessuno, ha detto il procuratore D'Angelo, può pensare di vendere droga e rimanere impunito. Bisogna far capire, a chi ancora non l'ha capito, ma devo dire che in questa regione già sono tanti che sono sensibili a questo problema, che droga e morte sono sinonimi e quindi vendere droga vuol dire vendere morte. Una mamma è un figlio di Sabile, malmenati e derubati in casa da due rapinatori senza scrupoli. È successo ieri sera a Campomarino, incontrata Ramitelli, dove intorno alle venti due uomini con il viso coperto da un passamontagna hanno suonato alla porta sorprendendo sull'uscio la donna, colpendola al volto e gettandola a terra. Il figlio di Sabile, assistendo all'aggressione, ha difeso la mamma, scaraventandosi addosso ai due rapinatori che lo hanno malmenato. La donna, per paura che la situazione potesse degenerare, ha consegnato i soldi che aveva circa 1.500 euro. I rapinatori italiani e con accento pugliese sono fuggiti sul caso, indagano i carabinieri. Si complica la vicenda della proroga per la Cassa Integrazione. In favore dei lavoratori della GAMI, il Ministero ha confermato che manca la copertura finanziaria. Per il secondo semestre del 2019, la Regione si è impegnata a rinnovare la richiesta, ma tra gli operai cresce la delusione e l'amarezza per l'incertezza sul futuro. Si tratta del quinto Natale consecutivo che i lavoratori trascorreranno senza lavoro e quest'anno anche senza Cassa Integrazione. Venerdì pomeriggio incontro intanto al Ministero. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Un passo indietro per la proroga di un anno della Cassa Integrazione straordinaria in favore degli operai della GAMI. Dal Ministero, infatti, hanno fatto sapere che manca la copertura finanziaria per il secondo semestre del 2019 e dunque bisogna ricominciare tutto da capo. La brutta notizia, abbondantemente prevista, è stata data dall'assessore regionale al lavoro Luigi Mazzuto che ha convocato sindacati e RSU. Delusione e amarezza tra i lavoratori costretti a trascorrere il quinto Natale consecutivo senza alcuna certezza e quest'anno senza un euro da spendere. Disperate e commoventi, le dichiarazioni rilasciate a caldo da Mario Michele Itzi, RSU della Cisla. Non abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo fatto due indietro perché adesso dobbiamo riformulare tutto l'iter burocratico. Sano il fatto che la Cassa Integrazione prima era stata formulata sei mesi più un ulteriore sei mesi che doveva finanziare il governo. Adesso invece è ritornata la carta indietro dicendo parere negativo perché deve essere formulata solamente i sei mesi perché le risorse finanziarie da parte della Regione bastano per coprire solamente i sei mesi. Quindi dobbiamo ritornare a Roma, rifare l'atto congiunto e aspettare il decreto quando viene. Avete firmato anche una liberatoria all'azienda? Qualcuno evidentemente si vuole tutelare a discapito nostro. Ci abbiamo rimesso il posto di lavoro, la dignità, i soldi, la salute. Ci abbiamo rimesso di tutto. Abbiamo firmato anche quest'atto dovuto. Sono cinque anni che l'azienda è chiusa. Allora noi festeggiamo cinque anni drammatici della nostra vita lavorativa. Quindi sfido chiunque a stare nelle nostre condizioni. Abbiamo bruciato tutti i nostri sparmi di 30 anni di lavoro, li abbiamo sperparati. Oramai ci auguriamo solamente che non arrivano le malattie. Altrimenti saremo veramente in seri problemi. In cinque anni se facciamo la media di 5 milioni all'anno, 5 per 5 è 25, sono stati buttati 25 milioni di euro per noi dipendenti pur di tenerci, di portare un reddito dignitoso a casa. Ma il problema è che non si vede una soluzione all'orizzonte. Qui è buio, ma buio totale. Quindi in cinque anni si potevano costruire cinque stabilimenti in tutta la regione. Invece non è stato costruito nulla. Anche la parte politica è stata troppo molle con gli imprenditori. Gli imprenditori si dovevano assumere le proprie responsabilità. Che Natale sarà per i 260 dipendenti della gamma? Ripeto, questo è un ulteriore Natale amaro. Per il quinto anno trascorriamo questo Natale senza soldi. Anche se noi ci dicono che siamo dei privilegiati, quando gli altri si comprano i panettoni noi staremo a casa, non so in che condizioni. Certamente non è stato razionale sprecare 25 milioni di euro per finanziare la cassa integrazione anziché il lavoro, ma tant'è. Intanto i lavoratori si sono riuniti in assemblea a Palazzo Colacrosso a Boiano e hanno manifestato l'urgenza di incalzare la regione e lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico per accelerare i tempi chiamati in causa anche la società avicola vicentina, della quale non si fidano, insieme a Francesco Amadori, il quale ufficialmente non ha alcun vincolo con la cooperativa che dovranno assumere impegni precisi al cospetto del tavolo nazionale per la ripresa produttiva dell'azienda boianese, ma in Natale è alle porte e sarà l'ennesimo Natale al buio per centinaia di famiglie che non vedono la luce in fondo al tunnel. Protesta dei lavoratori della ditta Splendor, incaricata della pulizia degli uffici regionali. L'azienda da 18 mesi non percepisce le proprie spettanze da parte della regione alla base della vicenda, problemi legati al bilancio regionale. Per un anno e mezzo l'ha ditta fatto fronte di tasca propria, pagando regolarmente i lavoratori. Adesso però le risorse sono esaurite e lo spettro di un Natale senza soldi per i lavoratori appare verosimile. È chiesto da parte dei sindacati l'intervento e il pagamento immediato da parte della regione. La rinascita dell'Italia senza euro è stato questo il titolo dell'incontro organizzato a Termoli da Fratelli d'Italia, in cui si è discusso di sovranità monetaria, ma dove c'è stato spazio anche per confrontarsi sui prossimi appuntamenti elettorali. Sentiamo Manuela Iorio. Un'Italia senza euro è davvero possibile o è solo una provocazione? Se ne è parlato a Termoli in un convegno organizzato da Fratelli d'Italia con l'intento di stimolare proprio la riflessione su un tema che ha sempre toccato la pancia degli italiani. Tra i relatori il saggista Cosimo Massaro, che ha presentato i suoi libri che trattano proprio il tema del signoraggio monetario. Attraverso questi libri spiego che cos'è la moneta, la moneta debito. Oggi abbiamo perso la sovranità monetaria, quindi dobbiamo fare in modo di riconquistarla. Non ce l'ho a priori contro l'euro, cioè intendiamoci, purtroppo con questo tipo di euro, perché un euro è emesso da una banca privata che lo presta, quindi una moneta debito che ha indebitato tutti i popoli europei, intendiamoci. Quindi se l'euro fosse dei popoli europei non sarebbe un problema. Quindi la rendita da signoraggio sarebbe distribuita al popolo, ai popoli europei. In questo caso noi dobbiamo invertire il processo, dobbiamo stampare una moneta o coniare una moneta con sovranità monetaria che non sia debito e sia realmente del popolo italiano. Potrebbe attualmente, momentaneamente, circolare anche una doppia moneta, l'euro è una moneta interna nostra, in modo da far ripartire immediatamente la nostra economia. Tra gli ospiti anche il parlamentare Francesco Acquaroli, che con la sua esperienza di membro della Commissione Finanze della Camera, ricorda che il mantra del partito della Meloni è proprio la sovranità monetaria. Non siamo contro l'euro, ma va ridiscusso, ha commentato. Credo che la politica monetaria dell'Europa e la sovranità, che è il nostro mantra, deve essere rivisto. Non è una questione di moneta, di strumento, è una questione, dal mio punto di vista, di come l'Europa chiaramente deve porsi davanti alle sfide future. Se l'euro è stato oggettivamente lo strumento che ha dato equità tra gli Stati o se l'euro invece in qualche punto di vista è mancato. In sala tanti esponenti di Fratelli d'Italia, ma anche più in generale del centrodestra. Questo dibattito politico sta per stimolare sia l'azione che Fratelli d'Italia porta avanti, sia sul territorio per vedere quanta parte della popolazione prende questo tema come un tema possibile. Io credo che la situazione economica è sotto gli occhi di tutti, per cui sicuramente vanno trovato delle soluzioni. Inevitabile una riflessione anche sulle imminenti scadenze elettorali tra europee e amministrative, con i due comuni più importanti da riconquistare, Campobasso e Termoli. Per Quintino Pallante il centrodestra unito può vincere. Noi lavoriamo in un'ottica di coalizione, ma non rinunciamo naturalmente alla nostra tradizione, alle nostre liste che, come sapete, hanno sempre riportato risultati elettorali sicuramente considerevoli. E così sarà anche per Termoli e per Campobasso. Inaugurati dal sindaco D'Apollonio i parcheggi nuovi, i parcheggi di Isernia Nord, tra la Questura e il centro commerciale, un'opera pubblica costata circa 400 mila euro, che ha migliorato di molto l'immagine dell'ingresso della città. Ma non è l'unica novità per la viabilità Isernia, e ci racconta tutto in questo servizio Enzo Di Gaetano. Alla presenza del sindaco Giacomo D'Apollonio e degli assessori Cesare Pietrangelo e Domenico Chiacchiere, in nonché dei tecnici, sono stati inaugurati nuovi parcheggi lungo la strada Isernia Nord, viale dei Pentri, zona Hotel Europa, previsti da un progetto approvato nel marzo 2016 dal commissario straordinario Vittorio Saladino. Era un'opera necessaria, proprio perché all'ingresso della città era una zona che si presentava in uno stato di degrado, con i lavori eseguiti, insomma è stato dato più respiro, anche dal punto di vista della fruibilità dell'area, dei parcheggi, si dà maggiore sicurezza all'arteria ed è un biglietto da visita della città. Noi ci teniamo molto che il decoro della città si elevi sempre di più, questo ci aiuta, e chiaramente adesso puntiamo a completare questo ingresso Nord di Isernia con le opere necessarie per raggiungere fino alla rotonda che è alcune centinaia di metri più avanti. L'importo complessivo del progetto è stato di Euro 390.000 di cui 55.000 messi a disposizione dall'amministrazione comunale che già pensa a sistemare anche l'area più a sud. Qui siamo di fronte a una cessione bonaria di un terreno a fronte di, pardon, di onere di urbanizzazione che l'impresa Antenucci quindi ha ceduto al comune di Isernia e ha fatto il primo strato quindi la massicciata. Poi c'è stato un finanziamento regionale e un cofinanziamento comunale. La seconda parte ci accingiamo sicuramente a completarla, ci auguriamo in brevissimo tempo. Abbiamo avuto contatti con i proprietari a cui abbiamo lasciato un po' di tempo per poter decidere circa l'evolversi di alcune situazioni di ordine economico ma pretendiamo da loro di avere delle certezze in merito alla loro intenzione per poi procedere con finire i lavori perché abbiamo fatto questo e anche i marciapiedi che sono di fronte all'attuale ACI che rientrano sempre in questo progetto. Una vera e propria riqualificazione riguardante le strade cittadine è quella che sta attuando l'amministrazione da Polonio. Questo infatti è solo uno dei numerosi cantieri aperti oltre alla rotonda che si sta realizzando in viale 3 marzo 70 davanti la casa circondariale. A breve avranno inizio anche altri lavori per realizzare marciapiedi davanti all'ACI sempre lungo viale dei Pentri. Questo è un primo passo, stiamo sistemando le varie zone della città dove ci sono più problemi per la viabilità, risolto questo all'ingresso di Sernia dove qualche problema c'era e dove ci sono avuti anche incidenti gravi proprio su questo tratto. Per quanto riguarda la rotonda i lavori stanno andando avanti là è previsto anche l'allargamento di viale 3 marzo che dovrebbe risolvere anche il problema di questo imbuto che in alcune ore della giornata si verifica. Speriamo di accelerare con i lavori ma penso che all'inizio della primavera tutto sarà realizzato e quindi anche quel problema sarà risolto. In occasione della sfilata straordinaria dei misteri domenica a Campobasso sono stati ospitati la delegata del sottosegretario di Stato senatore Lucia Bergonzoni ed Elena Sinibaldi del Servizio Primo Coordinamento Ufficio UNESCO. Sabato, il giorno prima della manifestazione dei misteri si è svolto un incontro tecnico in cui la senatrice Elena Sinibaldi referente MIBAC per la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale ha illustrato i principi e i criteri per l'applicazione della Convenzione e le procedure nazionali previste per presentare le candidature. L'amministrazione ha dato continuità alle interazioni con il MIBAC organizzando un incontro con la comunità dei soggetti portatori e detentori del bene per avviare in maniera corretta il processo di candidatura per la salvaguardia dei misteri quale patrimonio culturale immateriale. È un processo che sarà svolto sotto il coordinamento con l'indirizzo tecnico scientifico dell'ufficio UNESCO del segretariato generale del MIBAC in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione e dalle sue direttive operative questa è la nota che è stata inviata dal Comune di Campobasso. Torniamo dunque, parliamo ancora della sfilata straordinaria dei misteri uno spettacolo che ha emozionato e affascinato migliaia di persone arrivate anche da fuori regione per assistere all'evento organizzato per celebrare i 300 anni della nascita di Paolo Saverio di Zinno inventore degli ingegni sentiamo Giovanni Di Tota 300 anni e non dimostrarli una storia lunghissima quella degli ingegni di Paolo Saverio di Zinno che hanno attraversato quasi tre secoli ma sono ancora, e lo saranno nel tempo la più bella tradizione di Campobasso scultore di arte linea sono quasi 200 le statue individuate attribuite a questo illustre personaggio di Campobasso di Zinno colto dal furore della sua inventiva come recita la targa posta sulla casa dove nacque in via Sant'Antonio Abate disegnò e poi realizzò con l'aiuto dei migliori fabbri cittadini queste meravigliose macchine volanti che accarezzano il cielo nel giorno di Corpus Domini guanti e cappellini di lana bianchi una stola di pelliccia per la bellissima donzella le magliette di lana sotto i costumi e la sfida al freddo e a qualche iettatura è stata vinta anzi stravinta e ancora una volta in uno scenario che dire suggestivo e poco i misteri hanno saputo regalare uno spettacolo unico stavolta immersi nelle luci e nell'atmosfera di Natale in un percorso breve ma carico di emozioni il corso e il palazzo di città imbandierati con i simboli dei crociati e trinitari una corte d'onore in costume settecentesco che rappresentava i maestri di cerimonia delle due storiche confraternite e di Zinno in persona affacciato dal balcone della città ad assistere alla sua mirabolante creazione con lui almeno 20.000 persone che hanno mandato in tilt anche i cellulari indaffaratissime a fotografare realizzare video immortalare una sfilata che rimarrà nella storia organizzata per festeggiare i 300 anni dalla nascita di Paolo Saverio di Zinno subito cancellate anche le polemiche dei giorni scorsi che hanno accompagnato la donzella Chiara Rossi romana con i genitori originari del Molise ha saputo calarsi nella parte e reggere a dovere il confronto con il più navigato dei diavoli Italo Stivaletti sul mistero di Sant'Antonio Abate Via Leelena e poi Corso Vittorio Emanuele questa volta preso al contrario rispetto alla direzione di marcia canonica e poi rientro davanti al municipio per la consueta benedizione con la folla invisibilio pienone negli alberghi e nei bed and breakfast soddisfatti di organizzatori con l'impeccabile regia dell'associazione Misteri e Tradizioni una sfida vinta quella del comune che ha messo in cassaforte uno dei più bei momenti della storia della città attaccata come non mai a quella magia dei bambini che sanno volare anche d'inverno e che ci hanno regalato un assaggio di un Natale dolcissimo Festa di Santa Barbara celebrata dai vigili del fuoco in tutta Italia anche a Campobasso nella caserma di via Sant'Antonio dei Lazzari ci sono state la messa e le dimostrazioni di alcune delle attività del corpo oggi anche il messaggio del capo dello Stato il quale rivolgendosi ai vigili del fuoco ha parlato di un insostituibile punto di riferimento del sistema nazionale di emergenza soccorso e pronto intervento nella difesa delle vite umane come nella salvaguardia delle attività economiche e produttive nei compiti di prevenzione come nei servizi di salvataggio e soccorso tecnico ai vigili del fuoco ha detto ancora Sergio Mattarella nel suo messaggio esprimono l'eccellenza dell'affidabilità e della competenza in tanti con le autorità cittadine hanno partecipato ai festeggiamenti di oggi a Campobasso ricordando la dedizione e l'impegno di questo corpo speciale dello Stato Santa Barbara anche festeggiata anche al comando provinciale di Isernia sentiamo Enzo Di Gaetano come ogni anno a Isernia è stata celebrata al comando provinciale la festività di Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco con una sobria e sentita celebrazione con la partecipazione delle massime autorità civili e militari il personale dipendente e il personale dell'associazione nazionale vigili del fuoco dopo la Santa Messa ufficiata dal vescovo Camillo Cibotti ci sono state le consegne degli attestati e delle benemerenze ai vigili andati in pensione e ai vigili con maggiore anzianità di servizio di seguito l'intervento del comandante provinciale Raffaella Pezzimenti che ha fatto il bilancio dell'attività svotta nel 2018 è un bilancio quest'anno caratterizzato come sottolineavo nel mio discorso dagli eventi sismici che hanno colpito il Molise nel mese di agosto questo fenomeno sismico seppur non particolarmente distruttivo dal punto di vista appunto dei danni creati ha portato però uno stravolgimento nel nostro servizio operativo perché abbiamo raddoppiato i turni di servizio del personale operativo e ciò ha richiesto un notevole impegno da parte di tutto il personale che ha comunque continuato a garantire l'attività ordinaria di soccorso tecnico urgente sul territorio provinciale abbinandola appunto al presidio operativo presso Larino un luogo proprio vicino all'epicentro del sismo quella del 2018 è stata un'estate non contrassegnata dagli incendi boschivi ma da tante altre emergenze come quella della invasione degli insetti circa un migliaio di interventi la pioggia per fortuna quest'anno ha reso la campagna antincendi boschiva più semplice rispetto a quella della stagione precedente che viceversa è stata particolarmente problematica ma il numero dei nostri interventi si è mantenuto pressoché inalterato perché ci sono state moltissime richieste di intervento per bonifiche a insetti che è un qualcosa che preoccupa particolarmente la popolazione e per la quale siamo stati chiamati a intervenire per oltre un migliaio di interventi in tutta la stagione infine il comandante Pezzimenti ha ricordato il premio ricevuto dai vigili del fuoco di Isernia a livello nazionale per la loro attività svolta nel 2015 per l'emergenza meteo diciamo che il Dipartimento di Protezione Civile periodicamente conferisce benemerenze per quelle strutture che si sono distinte nella gestione di determinate attività emergenziali la benemerenza che abbiamo ricevuto è la medaglia di bronzo per gli eventi meteorologici che hanno interessato il Molise il 5 e 6 marzo del 2015 due giovani della provincia di Caserta sono stati denunciati per furto sono stati sorpresi mentre rubavano le traversine del guardrail sulla trignina lo scopero evidentemente quello di rivendere il metallo i due già noti alle forze dell'ordine sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di Agnone mentre stavano caricando su un furgone le traversine che avevano appena smontato una piccola grande rivoluzione che parte dalle amministrazioni locali questo rappresenta il percorso che prenderà avvio con l'evento Costruire la comunità l'importanza dell'educazione civica per il mondo del futuro l'amministrazione comunale di Cerro al Volturno con l'idea del consigliere Lucio Gabriel Paolone intende così aderire e implementare il progetto di educazione della cittadinanza lanciato a livello nazionale da Anci l'evento si svolgerà presso l'aula consigliare del comune di Cerro al Volturno giovedì 6 dicembre dalle 17 vedrà la partecipazione di esperti e professionisti di diversi settori delle costruzioni giuridico ambientale e informatico A Isernia nei locali dei cantieri culturali Le Cave è stato presentato il libro Nella Setta condotto da un'inchiesta condotta da Carmine Gazzanni e Flavia Piccini che fa luce sul fenomeno che coinvolge circa 4 milioni di italiani sentiamo Sergio Di Vincenzo Pubblicato da Fandango questo viaggio inchiesta nel mondo delle sette sta facendo molto rumore nonostante sia arrivato in libreria solo da pochi giorni i documenti le informazioni e le testimonianze raccolte da Carmine Gazzanni e Flavia Piccini hanno permesso di fare luce su un fenomeno sottovalutato se non addirittura ignorato eppure certi gruppi hanno rovinato e continuano a rovinare la vita di tantissime persone dopo un incontro organizzato alla Camera dei Deputati il libro nella setta è stato presentato anche ai Serni a città di origine di Gazzanni promettente giornalista che tra l'altro proprio nei giorni scorsi è stato premiato per un'inchiesta sul caporalato al nord un disinteresse che provoca un dramma vivo nelle persone appunto che finiscono prigioniere appunto di realtà settarie di santoni di guru eccetera come appunto raccontiamo nel libro nel libro cerchiamo di mostrare quelli che sono gli abusi spesso sessuali spesso anche nei confronti di bambini cui gli adepti appunto devono sottostare ma cerchiamo di mostrare e indaghiamo anche quella che è la rete politica molto spesso e gli agganci economici che permettono a queste stesse organizzazioni di in qualche modo vivere e sopravvivere e a tutto questo fa fronte un disinteresse della politica nei confronti delle vittime anche perché come denunciamo c'è un vuoto normativo in Italia proprio grazie a questo libro denuncia qualcosa comincia a muoversi ha spiegato Flavia Piccini scrittrice autrice di vari programmi RAI e in passato vincitrice del premio Campiello in Toscana è stata già avviata un'indagine ma l'impressione è che questa sia solo la prima di una lunga serie tutto è partito adesso per quanto riguarda l'archeosofia che è un'organizzazione che si trova in tutto il territorio italiano partendo dal libro e dal coraggio che i fuoriusciti hanno preso appunto leggendo il testo la squadra Antisette ha aperto un'inchiesta un'indagine la cosa che ci preme è evidenziare il fenomeno e soprattutto fare in modo tale che questo venga davanti agli occhi della politica e dei cittadini che prendano coraggio i fuoriusciti e che si abbia la capacità di affrontare con uno sguardo lucido e netto tutto quello che accade nell'occulto italiano che non è poco comunicazione di servizio per i lavori di manutenzione della rete idrica comunale domani a Campobasso mancherà l'acqua in alcune zone della città l'interruzione in programma a partire dalle 8 in via Duca d'Aosta e in via De Pretis nelle contrade Colle, Serano e Tappino e in rione San Vito l'acqua mancherà anche nella via esterna di Campobasso nella zona confine di Busso e in contrada la caia sempre a Busso il ripristino dell'erogazione avverrà presumibilmente dicono dal comune di Campobasso nell'arco della stessa giornata di domani e a Campobasso anniversario importante per il centro commerciale Centro del Molise che ha tagliato il traguardo dei 17 anni di attività per l'occasione è arrivato il noto ballerino Stefano De Martino c'era per noi Valeria Farina 17esimo compleanno per il centro commerciale Centro del Molise di Campobasso una festa che come da tradizione si svolge ogni anno la prima domenica di dicembre per questo 17esimo anniversario lo staff e la dirigenza del centro del Molise hanno invitato un ospite speciale Stefano De Martino il ballerino campano famoso per aver fatto parte del cast del talent di Canale 5 Amici e per essere stato l'inviato speciale dalle Honduras nell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi ha accolto le centinaia di fan regalando autografi e sorrisi De Martino ai microfoni di Tele Molise ha parlato del grande valore della danza e del suo rapporto con il pubblico la vicinanza con il pubblico è importante diciamo che il pubblico è il motore di questo mestiere noi personaggi dello spettacolo in generale siamo sostenuti da loro e facciamo questo lavoro principalmente grazie a loro perché le persone da casa come nel mio caso che sono un personaggio prettamente televisivo hanno il potere del telecomando quindi è giusto riconoscere a loro questo potere e quindi rendersi disponibili anche durante gli eventi 17 anni di successi consensi e continue conferme per il centro del Molise che ogni anno registra presenze da record oltre 30 negozi su una superficie di circa 20.000 metri quadrati Maurizio Mangia direttore del centro commerciale si dichiara soddisfatto dei risultati raggiunti in questi 17 anni siamo arrivati al 17esimo anno di attività e come di consueto ogni prima domenica di dicembre organizziamo questa grande festa quest'anno in concomitanza della sfilata dei misteri abbiamo ritenuto opportuno doveroso e rispettoso posticipare i festeggiamenti che sono appena iniziati quindi che dire 17 anni di attività documentano il ruolo della struttura che si riconferma comunque un punto di aggregazione basta guardare un po' le immagini in galleria della struttura super piena Mangia ha colto l'occasione per annunciare le prossime novità in programma nella galleria del centro commerciale quest'anno c'è una grande novità per quanto riguarda le attività di intrattenimento natalizie infatti ci sarà un evento dal titolo Angry Bears verso Babbo Natale che prevede l'allestimento di due importanti aree nella galleria dove si potrà sfidare Babbo Natale con un gioco virtuale e anche live è tutto termina qui il nostro TG delle 14 dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo intorno alle 15 per il TG Flash buon pomeriggio per la sigla per la sigla per la sigla